Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Se mi amate, osserverete i miei comandamenti E io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito Perché rimanga con voi per sempre Lo Spirito della Verità Che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi Non vi lascerò orfani, verrò da voi Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più Voi invece mi vedrete Perché io vivo e voi vivrete In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio E voi in me e io in voi Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva Questi è colui che mi ama Chi ama me sarà amato dal Padre mio E anche io lo amerò E mi manifesterò a Lui Parola del Signore Ecco, proseguendo l'ascolto dei discorsi dell'ultima cena Incontriamo oggi una delle cinque promesse che Gesù fa Di mandarci il paraclito Anzi, nel Vangelo di oggi Gesù dice Io pregherò il Padre Ed Egli vi darà un altro paraclito Perché rimanga con voi per sempre Lo Spirito della Verità Quindi vuol dire che il primo paraclito è Lui Cosa vuol dire paraclito? È una parola greca un po' difficile Che letteralmente vuol dire avvocato Proprio avvocato viene dal latino Paraclito viene dal greco Ma è la stessa radice Advocatus Cioè chiamato vicino a te Diciamo colui che sta dalla tua parte L'immagine è giudiziale In tribunale il tuo avvocato Spero che nessuno di noi abbia fatto questa esperienza Sta seduto accanto a te Cioè sta dalla tua parte Ti difende Certo Perché l'idea è Che quando ci presenteremo Al tribunale di Dio Ecco Noi avremo bisogno di un paraclito Di un avvocato difensore E Gesù ci dice Che ne abbiamo due Abbiamo Lui E abbiamo lo Spirito Santo Perché c'è anche un accusatore Satana infatti La parola Satana vuol dire L'accusatore Dice la scrittura L'Apocalisse Colui che accusa i nostri fratelli Davanti a Dio giorno e notte Satana è colui che ricorda I nostri peccati A Dio Gesù e lo Spirito Santo Ricordano invece a Dio La sua misericordia E quindi siamo Come dire fiduciosi Perché Perché abbiamo due paracliti Perché abbiamo due avvocati difensori Gesù Va via Ancora un poco E il mondo Non mi vedrà più Dice Certo non vediamo più il Signore fisicamente Ma voi invece mi vedrete Perché io vivo e voi vivrete Non vi lascerò orfani Ecco Qual è il dono del paraclito Il dono dello Spirito È il dono Dello Spirito Santo Che ci permette di vedere Gesù Nell'invisibilità Nella sua presenza Nel cercarlo Come anche domenica scorsa Dicevamo Nel cercarlo Nella nostra vita Laddove Apparentemente Non c'è Dio E invece Ci dice la parola C'è E io vivo E voi vivrete Ecco il paraclito Lo Spirito Santo È colui che ci dona La vita stessa di Dio La vita dell'amore Perché lo Spirito È amore Che accoglie i miei comandamenti Dice Gesù È colui che mi ama Chi mi ama Sarà amato dal Padre mio E anche io lo amerò E mi manifesterò a lui Ecco Nell'amore Noi possiamo vedere Gesù E riconoscerlo Tutti i giorni della nostra vita Invochiamolo Spirito Santo In questi giorni Perché ci aiuti A scorgere Gesù Vivo nella nostra vita E a vivere anche noi Nel suo amore E della sua vita Il suo amore Nel suo amore Sì Nel mio Grazie a tutti.